La militanza di Mario Albertini nel movimento federalista europeo inizia nel 1953 grazie all'incontro con Altiero Spinelli e termina nel 1997 alla sua morte e ha rappresentato un contributo fondamentale alla teoria e alla lotta federalista. Per questo è impossibile riassumere in pochi minuti la complessità del pensiero e dell'azione di Mario Albertini e io mi limiterò a fare pochi cenni ad alcuni elementi del suo pensiero relativi alle peculiarità della lotta per la federazione europea e al ruolo dei federalisti. La premessa dalla quale partire è costituita dal fatto che in Mario Albertini pensiero e azione sono sempre strettamente collegati. La sua riflessione profonda sulla necessità di concepire la politica come una scienza e dunque di comprendere a fondo la realtà per giungere alla verità, cioè per giungere a una visione chiara dell'esistente, non è infatti mai sganciata dall'azione e quindi dall'individuazione dell'obiettivo strategico da raggiungere e del ruolo dei federalisti nella battaglia per raggiungere questo obiettivo. I militanti federalisti, sottolinea Albertini, si formano nella lotta, non si formano in cenacoli di studio. Tuttavia non si è dei buoni militanti se non si ha un carattere politico ben definito, che si può formare solo attraverso lo studio e la discussione. Scrive Albertini, in tutte le imprese rivoluzionarie qualcosa di questo genere è sempre esistito, perché il compito più difficile del rivoluzionario è proprio quello di usare bene la ragione per dirigere la lotta verso un obiettivo nuovo in un mondo dove le abitudini, i pensieri, i fatti, i luoghi comuni indirizzano gli uomini verso i vecchi obiettivi. Questo è un elemento essenziale del pensiero di Albertini, che ha sempre rifiutato il ruolo dell'intellettuale che studia in modo astratto i problemi senza porsi l'obiettivo di modificare la realtà esistente. Si tratta di un elemento che mette in evidenza l'importanza di un'analisi profonda della realtà, sganciata dagli schemi predominanti, analisi sulla base della quale poi si deve impostare la battaglia politica. Tutta la riflessione di Mario Albertini in effetti è percorsa dalla consapevolezza della difficoltà del ruolo dei federalisti e della peculiarità del ruolo dei federalisti rispetto alle forze politiche tradizionali. I federalisti infatti, sottolinea Albertini, non si propongono di modificare un potere già esistente ma di creare un potere nuovo, modificando quindi l'ambito nel quale si svolge la battaglia politica. Quindi i federalisti, secondo l'espressione di Albertini, devono portare avanti un'opposizione di comunità. L'opposizione di comunità è contrapposta alle comuni opposizioni di governo o di regime per il fatto che, anziché rifiutare un certo governo o un certo regime, rifiuta la comunità nazionale come comunità politica esclusiva. Albertini scrive «l'opposizione di comunità non è facile. Il suo aspetto negativo, il rifiuto del potere nazionale esclusivo, è evidente. Ma al suo aspetto positivo, la lotta per trasformare il potere europeo di fatto in un potere costituito, democratico, è complicato. Un potere non ancora costituito è invisibile. D'altra parte, un potere non ancora costituito non piglia decisioni, cioè non favorisce e non danneggia nessun interesse immediato. Sta fuori dalla bilancia di questi interessi e perciò anche fuori dalla politica normale. Per questo, chi si batte per il potere europeo è come se si battesse per nulla». La difficoltà del compito dei federalisti, che Albertini quindi mette bene in evidenza, comporta che i federalisti abbiano una forte spinta morale, che in altre parole, secondo la bellissima definizione di militante che dà Albertini, facciano della contraddizione tra i fatti e i valori una questione personale. La difficoltà di questo compito, la peculiarità del compito dei federalisti, il fatto che i federalisti debbano fare un'opposizione di comunità, ha delle conseguenze anche sui caratteri dell'organizzazione federalista. Dal momento che il compito dei federalisti è quello di opporsi allo Stato nazionale come unica comunità politica di riferimento, il loro ruolo deve, secondo Albertini, essere sganciato dai modelli tipici della politica nazionale. In effetti, un altro elemento essenziale del pensiero di Albertini è la consapevolezza dello strettissimo legame esistente tra modo di organizzarsi e modo di pensare. Questo comporta che, visto il compito dei federalisti, il modello organizzativo al quale i federalisti devono fare riferimento sia imperniato sul concetto di autonomia. Prima di tutto autonomia politica, cioè indipendenza dai partiti, vale a dire sostegno a qualsiasi partito nel momento in cui questo prenda delle posizioni favorevoli alla creazione di una federazione europea, ma non identificazione con nessuna delle forze politiche nazionali. Accanto all'autonomia politica abbiamo l'autonomia organizzativa, quindi la costruzione di un movimento che sia fondato su militanti a tempo parziale, cioè su persone che non traggano dall'attività politica nel movimento federalista la loro fonte di sostentamento, ma che abbiano una propria professione e poi dedichino una parte del loro tempo alla lotta federalista. Infine indipendenza finanziaria, e cioè autofinanziamento da parte degli iscritti. Solo attraverso una scelta di questo tipo, cioè attraverso una scelta di autonomia in queste tre accezioni che ho appena detto, secondo Albertini si può dar vita a un movimento che sia in grado di svolgere un compito molto difficile, e cioè di mantenere sul campo per anni una battaglia come quella per la creazione di un nuovo potere europeo e di trovare poi la via per essere ascoltato nei momenti di crisi, cioè nei momenti nei quali il potere nazionale si sta decomponendo, si sta deteriorando e il messaggio federalista può trovare la via per essere ascoltato e fornire una soluzione. Ovviamente il compito di creare un nuovo potere europeo, di dar vita a una federazione europea non può essere svolto unicamente dai federalisti, ma richiede che ci siano altri attori che convergono verso questo obiettivo. E qui si inserisce la riflessione di Albertini sul ruolo dei vari attori e sui destinatari del messaggio federalista. I federalisti quindi non devono rivolgersi solo a un interlocutore, ma devono rivolgersi a più interlocutori diversi che hanno ruoli differenti. Innanzitutto ai cittadini. Il primo obiettivo infatti è quello di coagulare attorno all'obiettivo strategico e politico della federazione europea i cittadini, cioè coloro che Albertini definisce il popolo europeo in formazione. In effetti a coloro che sostengono che non si può creare una federazione europea, non si può dar vita a uno stato europeo, perché non esiste un popolo europeo e quindi a coloro che sostengono che prima si debba formare un popolo europeo e solo dopo si possa pensare a creare una federazione europea, Albertini risponde che popolo europeo e stato europeo in realtà nascono insieme. E in particolare secondo Albertini un nuovo popolo nasce nel momento in cui prende coscienza della necessità della nascita di un nuovo stato e un nuovo stato nasce per il solo fatto di questa presa di coscienza. Accanto ai cittadini però che sono uno degli interlocutori ai quali i federalisti devono rivolgersi ci sono anche i governi e le forze politiche, cioè i partiti ai quali i federalisti devono rivolgersi per indicare gli obiettivi strategici intermedi oppure quando la situazione si aggrava e sfocia in una crisi per indicare l'obiettivo finale dello Stato europeo. In relazione ai governi e ai partiti in particolare Albertini sostiene che nel quadro della lotta per la creazione di una nuova realtà politica e quindi di una realtà politica di carattere europeo il ruolo dei governi sia più propulsivo rispetto al ruolo dei partiti. Secondo Albertini infatti i partiti sono portati a considerare i problemi sotto il profilo del guadagno o della perdita di voti a livello nazionale, nel quadro nazionale ed è nel quadro nazionale che lottano per acquisire il potere. I governi invece hanno un ruolo diverso perché hanno un ruolo che li porta ad affrontare delle questioni concrete più che grandi questioni ideologiche. Questo comporta che quando soluzioni nazionali a un determinato problema non siano possibili i leader nazionali possano in certe occasioni agire come leader europei. Si tratta di quello che Albertini definisce la leadership europea occasionale che si manifesta in un contesto dice Albertini definito non dalle istituzioni ma dalla situazione di fatto e che funziona come un mezzo traente della classe politica nella sua generalità. Ma la formazione di una leadership europea occasionale e quindi di leader nazionali che fanno proprio alla causa europea non è però sufficiente per compiere un salto federale perché necessita della iniziativa e della preparazione da parte di un gruppo di una minoranza i federalisti che ha fatto della battaglia per la federazione europea lo scopo della propria battaglia politica. Compito dei federalisti in questi momenti cioè nei momenti nei quali si manifesta la crisi e può manifestarsi una leadership europea occasionale è dunque quello di mettere in luce la necessità di un salto federale cioè la necessità di un passaggio costituente che dia luogo a un nuovo potere e quindi della rottura del quadro nazionale per la formazione di un quadro invece europeo. Qui si inserisce la riflessione di Albertini sulla differenza tra gradualismo e metodo costituente. Il gradualismo secondo Albertini di fronte a dei problemi che hanno varcato e scavalcato le dimensioni degli stati nazionali consente di trovare delle soluzioni imperfette nell'ambito di un grado di unità che sia compatibile con il mantenimento della sovranità formale degli stati cioè consente di trovare forme di intensificazione della collaborazione tra gli stati che rimangono comunque stati sovrani e in questo senso il gradualismo può svolgere un ruolo positivo nel senso che modifica la situazione in modo tale che i nuovi problemi che si presentano perché non ha trovato una soluzione finale richiedono un grado ancora maggiore di unità per essere risolti. Quindi il gradualismo ha un ruolo in certi momenti ma sottolinea Albertini quando si tocca il cuore della sovranità e quindi quando vengono in considerazione gli elementi cruciali della sovranità e cioè politica estera e di sicurezza e politica economica e fiscale il gradualismo si arresta. Dice Albertini in questi momenti è necessario un salto cioè una decisione politica che crei un potere europeo e che dia vita a una sovranità europea. La sovranità sottolinea Albertini e qua concludo non si può trasferire gradualmente ma solo di colpo. Quindi quando gli obiettivi europei non possono essere raggiunti senza il trasferimento di poteri sovrani conclude Albertini la sola strategia possibile è quella di Spinelli cioè la strategia costituente. Grazie a tutti. Grazie a tutti.